Benvenuti in questo nuovo episodio di Astrobot, nello scorso episodio. Un alieno ci ha tolto tipo la scheda, tipo di memoria, o quello che era. E siamo atterrati qua, in un pianeta sconosciuto. E oggi dovremo continuare la galassia. Per recuperare altri Astrobot, la nebulosa del gorilla. Oggi faremo ben due livelli. E vorrei cominciare con questo, il picco cremoso. Perché mi sembra veramente stupendo, lo vorrei lasciare per ultimo. E cominciamo assolutamente, anche perché qua abbiamo tre personaggi iconici del gioco della Playstation. E anche quello che sembrerebbe un'altra galassia. Che scopriremo tutto oggi come sbloccare questo contenuto extra. Ok. Il logico è che faccia anche Fred, perché altrimenti il gelato si scioglierebbe. Questa è una galassia di gelato, alla fine. Allora, ti devo usare come trampolino. Tu vuoi essere qualcosa? Non credo. Che belli orsetti, però. Sono caduto. Non ho neanche visto cos'era. Che ho sbloccato. Ok. Dovrei poter scattare una foto in qualche modo. Non ho più paio di dire come si faccia. Con la Playstation, mi spiace. Potrei però essere la miniatura del video. Non è fatto male come miniatura. Dimmi che non ti sconfigo. Ok. Tu sei quindi tipo immortale. Cucinera robotica. Ti voglio mettere... Ti posso mettere qua. Sicuramente. Ok. Dei anche monete. Ottimo. Qui c'è qualcosa. È Snake. No ragazzi, è Snake. È stupendo. Qui sono dei nemici. Stanno facendo un pupazzo di neve. E c'è anche qualcosa qua sotto. Un tassello. Vediamo se è il primo. È il primo. Ottimo. Muoio se vi scordi qui dentro. Tanto c'è un checkpoint. Quindi per capirci. Mi butto. Divento un cubetto di ghiaccio. Ok. Tanto per capirci. Cosa buona è che questo gioco, questo tipo di gioco non ha, non posso dire, un tot di vite. Quindi potete morire tutte le volte che volete. Mi potete finire il livello. Il prossimo è, ok. Il prossimo non è un personaggio. Prestation. Quindi. Credo che lo prenderemo più tardi lui. E rispaulano. Ok, si rispaulano. Ottimo. Quindi se dovessi mancare qualcosa posso tornare indietro. E anche se dovessi cadere, appunto. Bello però questo mondo. Mi piace questo livello. È molto bello. Lì c'è una scala. Lì c'è un tassello. Lì c'è un cono gelato gigante. Per il resumo alla panna. Cattivo. Lì cos'è che c'è? Ok, lì il punto di prima. Un po' di avvenne mancato uno. Ci provo adesso a salvarlo lui. Ok, è il secondo. Che sia dentro quel coso di ghiaccio è possibile? Come posso distruggerlo? Oh mamma... Oh no. Vieni... Ti posso colp... No? Gira? Posso colp... Posso colpirlo? E rispauna per caso il maiale? Ok, sì. Ok. Quindi provo ad andare e vedere se magari è qua sopra. Qua dovevi fare? Così? Ok, così. Ok, forse sì. Forse è là qua sopra quindi. Ah, ok. Quindi ci sono delle uscite segrete un po' tipo in Super Mario. Ok, dov'è che finì? Ok, quindi è tipo un mondo. Ok. Quindi allora oggi faremo il livello che stiamo facendo più questo che i funghi dei fiori. Prima voglio finire quello che stavo facendo, quindi... Per curiosità, mi rimangono salvati i personaggi che ho trovato prima di uscire dalla... Ok, sì, mi sblocca anche il mondo e il mondo, il livello prossimo, il prossimo livello che poi si chiama? Per curiosità. Construction Derby. Ho appena visto una cosa che mi... Ok. Un attimo, queste due cose prima non c'erano? Che sono dei livelli estero? Non credo. Boh. Lo vedremo. Insomma, sono i livelli più corti quelli delle galassie. Allora, un attimo. Allora, vieni qua. Via. 200 moetti. Ma cosa... Cosa sarebbe, per curiosità? Ah, ok. Non lo userò mai più, saperlo prima. È tipo un... È un uccello robot... Tipo un titti robotico. Che ci dice dove sono i... I... I bot. Ok. O non sapersi cosa ma non lo uso più, anche perché 200 monete mi sembra un po' esagerato. E quant'è che vengo? Le morite qua? Ok. Ok, fino a qua siamo al punto di piano, quindi salto via tutto. Ok, eccoci qua. E allora, vieni pure qua. Maglialino. Dammi la tua coda, alla fine. E pam. Qua c'è... Ok. Meno male che ho controllato. Ed ecco un altro. Non ho letto le descrizioni, vero? Di due personaggi... Della Prey, vero? Sì. Posso in qualche modo... Leggere le descrizioni di qualcuno? No. Ok. 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 Ok, sì, un attimo, un attimo, un attimo, un attimo, un po' di tregua. Ok. Ok. I testei si ammessi bene. Poi c'è un altro. Un altro livello? No. Io ho già ottenuto il... Il buco nero per andare in un'altra galassia. Non posso neanche distruggere io il... Ghiaccio. Devo per forza farlo queste cucinelle. Oh, che ce n'è più di una, più di una, vero? Mi sembra di sì. Ninja misterioso. Né un nemico, né un amico. Ma e non è un ninja quello di Gotham Knight? Della serie ADC, vero? Un attimo. Allora, ok, siamo giusti. Ci mancano solo gli ultimi due. Uno lì sopra, come mi indica lui. E come dovrei far... Come dovrei fare qua? Dai, ti parego. Vai. Ah, tu muoviti. Non posso aver arrivarci così. No, beccato. Ok. Dove è arrivarci adesso? Dimmi che sei il penultimo, ti prego. Non l'ultimo. Ok, perfetto. Ok, checkpoint. Tu vai contro. Mini boss? Credo di sì. Ok. 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 Dovevo tenermelo, non fa niente. Il gioco veniva subito un altro per colpire lui. Dovevo tenermelo su un attimo se abbiamo tutto. Abbiamo tutto. Possiamo finalmente finire il livello. No, beccato per pochissimo. Ok, l'abbiamo fatto al 100%. Adesso andiamo nella galassia sbloccata poco fa. Che si chiama? Galassia perduta. Ok. Quindi qua ci sono buchi neri per forza. E facciamo il livello funghi dei fiori. Quindi 5 bot, 2 tasselli e 3 bot che devono essere significativi della Playstation. Wow, no, bello sto... Ok. Vuoi colpire le casse? Colpiamo le casse. Ok. Ok. No, bellissimo. Ne devo fare tipo così. Un attimo che volevo tornare indietro. No, vabbè, voglio. Wow, bella sta cosa. Devo esaminare bene le zone in basso. Visto che prima se non era per l'aiuto non... Ammetto che non c'aveva mai pensato che fosse lì. Ok. Non c'è niente. Ok, possiamo andare avanti adesso. Però tranquillamente. Quanto il primo è... Ok. Un attimo. Ok, niente. Ok. Un nuovo nemico? Potrebbe essere Castelvania. Ammazza vampirsi. Va a partire a una lunga stirpa di strutture di candele. Bello. Potrebbe essere Castelvania. Mentre all'inizio lo confusatiamo con Leon di Resident Evil. Però se c'è scritto ammazzavampiri è perché è ammazzavampiri. Ma magari c'è qualcosa qua. Dietro. No. Ok. Non sarà che voglio portare poi sul canale che è molto bello è quello di Sackboy. Se poi è la 5. E poi 3, 4. Niente. Niamo avanti. Ok. Che usi? Ah. BOOM. No. No. E rifaccio velocemente il livello. Curiosità. Ok. Lui mi ha già sbloccato. Di Castelvania. Pensavo fosse tipo una cosa extra scendere lì sotto. Invece no. Peralmeno possiamo andare adesso avanti. Tranquillamente. Fino a quel punto lì. Ok. Ok. Che siamo già atti al punto di prima. No ma l'hanno fatto buttarmi giù. Ok. Prima andiamo qua sopra. Ah ok. Ecco perché. C'è quello nascosto qua sopra. No. No. Non possiamo... Possiamo prima... Beh. Non possiamo... Facciamo prima questo qua. Ok. Esplodi. Appunti. Un che sei il primo tassello. Ottimo. Forse per mancare. E molto. Un posto di vivo. E veramente molto il telecomando qua. Sia magari per l'erba. Andiamo qua. Qui non c'è niente. Qua sotto. No. Ok. Possiamo andare avanti adesso. Ok. Ok. No allora. Lo open in questo. E qua di Bloodborne. Bloodborne. Dovrebbe essere lui. Turista di Yharnam. Destinato ad essere grande. Bello però. Quindi per il momento siamo giusti. Perfetto. Mancavo solo per il momento il tassello. È una talpa? È una talpa. Ok. Per l'importante che mi consigli di preso. Ok. Sì. Non c'è anche una zucca? Allora. Ok. Non c'è anche un città, che mi consigli di preso. Non c'è anche una zucca. Non c'è anche una zucca. Allora. Un città, allora è un città, è un città. Ma che ci si sceglie di preso e si sceglie di preso. Sceglie. Che mi consigli di preso, Sceglie di preso. Non c'è anche una zucca? Da. Ok. Già. Ok, lì ce n'è uno, allora copiamo abbiamo questi due qua, e questo? Ok, ottimo. Così posso uscire, vero? Sì, ok, perfetto. Mmm, cavolo. Devo fare anche un po' di cose nel pianeta dove siamo atterrati? Qua sono andato, non credo. No, ho fatto molto bene da morire. Cos'è che devo fare qua? Devo... Quindi dove vibra di più dove devo andare, ok. Ci mancano solo qui due personaggi, tra cui il primo deve essere un personaggio iconico. Ok, allora. Non mi dai più problemi. Ehi, battaglia? Battaglia. E cosa devo fare? Devo andare sopra per colpirlo? È possibile? Ok, sì. Non credo di poter fare altro per il momento qua, o neanche bene, anche in futuro. Perché anche voi, tipo, posso salire qua sopra, però nient'altro. Quindi scendiamo ancora di più. Ok, troppo sospetto. Tutte quelle rocce messe lì con una piccolissima luce di blu che usciva. Ah, ok, devo fare così. Ok, vediamo. Dampilo Damerino L'esatto posto di suo padre Sempre Castelvagna è possibile? Ce ne manca solo più uno? Chissà sicuramente qua Non mi colpirai E invece mi ha colpito Ok salterò la parte della talpa Ma non è importante sconfiggerlo Il punto è per andare tutta questa roba qua Allora sento il robot che piange Questa è la talpa Allora Dai salta Niente vabbè andiamo avanti Potrei tipo essere qua sotto è possibile No? Sopra? E magari sopra Ok come devo affrontare questo? Così Ah semplice Easy Ok secondo me è lì sopra In qualche modo Ok sì eccolo lì Però come ci arrivo Non cambierebbe nulla Ah lì c'è la fontana Quindi dove ti puoi scendere da lì Ancora puoi poter salire tramite la fontana Vero o no? O sì? No Che debba saltare dal ponte più alto? Alto è possibile Ma non credo serva qualcosa E poi non riesco neanche a fare un salto Per impatto Ok allora Non posso comandarlo vero? A mio piacimento Piacimento Che devo fare qualcosa con la talpa Non credo No Ok faccio un taglio Finché non riesco Ad arrivare Ad arrivare Ad arrivare di sopra Ok dove Più o meno Avrei capito bene la tecnica Per farlo Più Pelo pelo Vai su Ok È fattibile così Secondo me Però devo stare meno Sotto l'acqua Ok Non ci credo Vi abbiamo tutti e cinque Adesso Battiamo quella Quella specie di boss E facciamo ancora due cose Nel ponte dove siamo atterrati Se riuscissi a fare un salto decente Che non sono proprio in grado di fare Moneta Cavolo Mio correre Addio Abbiamo Finalmente Presumo Finito Il livello Due Galassia Perché al fine dovrebbe essere il livello due Questo Della galassia Abbiamo preso tutto E adesso Dovrei Prenderlo Meno Ma all'insieme Il livello è molto bello Poi ci ho messo una vita A capire come andare Come salvare quel Robot Robot Ne ho già un bel po' Siamo fatta già un bel po' Di cose qua E le faremo Allora qua ne chiedevano Dieci Andiamo Vorrei perlomeno Uscire a completare un puzzle Poi C'erano Lì Si sono Su Quindi non voglio farlo Non delle cose da fare Lì Ok Non Vevo dire che è un corpo Che non mi aspettavo Lo prendo loro O lo prendo io Ok Devo andare anch'io Ok Quindi Salto così Devo scendere per forza E poi aspettare Ok Ok Io ancora da fare C'è quella Quella cosa lì E ancora due cose Ok Facciamola un attimo No No Tale cosa Ok Quindi qua Presumo salveremo Due bot Mi manca uno Ok Ok Facciamolo un attimo. Ok. Prima di aver fatto tutto quello che potevo fare nella mappa. Ok, quindi nel prossimo episodio guarderemo sicuramente i laboratori gadget, quindi collezionabili. Niente, io vi saluto e vi aspetto nel prossimo episodio. Ciao, lopetti.